parte Sergio Ramos sul fondo allora in questo avvio di gara abbiamo un problema da risolvere parte Isco morbido il vantaggio della Spagna con un gran gol di Isco al tredicesimo minuto concesse le troppe abunizioni quello più dinamico nella fase offensiva Darnian punta l'area avversaria con decisione arriva il traversone a cercare Belotti il colpo di testa il miracolo di De Gea si salva la Spagna sulla prima occasione creata dall'Italia Carvajal su immobile allora riparta ancora la Spagna sempre Carvajal il pallone per Koke che va sul fondo effetto il traversone altro colpo di testa di Piqué che sfiora il gol del 2-0 da ottima posizione Spinazzola si infuria si infuria avventura e ancora Carvajal pericolosamente carica il destro prova la conclusione pallone sul fondo c'è una deviazione calcio d'angolo Maglialba la chiusura è stata di Darnian Iniesta verso Isco può tentare la conclusione si allarga sul sinistro Isco e sono due doppietta di Isco che conferma Dotti da fenomeno segna il numero 22 l'Italia è sotto di due reti al quarantesimo del primo tempo è nato tutto da Darnian che ha perso di vista l'avversario finalmente c'è Belotti immobile l'appoggio per Insigne la conclusione la respinta di De Gea che andreva il pallone arriva a Belotti che viene fermato da una posizione di fuorigioco si è allargata la Spagna ha lasciato all'Italia la possibilità del contropiede vicino David Silva si gira e poi il pallone per Asensio che carica il sinistro prova dalla lunga distanza è una delle sue specialità l'ha mostrata nelle partite contro il Barcellona di cui parlavo poco fa Nidi Verratti poi controlla il pallone lo allarga verso Carvajal che è solo davanti a Buffon Carvajal interviene Buffon con una grande parata e poi allontana De Rossi ma quello che ha fatto Isco è da enciclopedia del calcio Morata tocco verso Sergio Ramos il cross di Sergio Ramos per Morata e sono tre erano in cinque contro due sono riusciti a realizzare partita contro l'Australia per 3-0 ma partita molto triste perché la Spagna fu eliminata già nel girone di qualificazione ci prova intanto Insigne dalla lunga distanza e costringe De Gea a un belù che sfiora il gol del 2-0 da ottima posizione Spinazzola si infuria si infuria avventura e ancora Carvajal pericolosamente carica il destro prova la conclusione pallone sul fondo c'è una deviazione calcio d'angolo Maglialba la chiusura è stata di Darmian Iniesta verso Isco può tentare la conclusione si allarga sul sinistro Isco e sono due doppietta di Isco che conferma doti da fenomeno parte Sergio Ramos sul fondo allora in questo avvio di gara abbiamo un problema da risolvere parte Isco morbido il vantaggio della Spagna con un gran gol di Isco al tredicesimo minuto concesse troppe punizioni è quello più dinamico nella fase offensiva Darmian punta l'area avversaria con decisione arriva il traversone a cercare Belotti il colpo di testa il miracolo di De Gea si salva la Spagna sulla prima occasione creata dall'Italia Carvacal su immobile allora riparta ancora la Spagna sempre Carvacal il pallone per Coque che va sul fondo effetto del traversone altro colpo di testa di Pichetti vicino David Silva si gira e poi il pallone per Asensio che carica il sinistro prova dalla lunga distanza è una delle sue specialità l'ha mostrata nelle partite contro il Barcellona di cui parlavo poco fa Pichetti di Verratti poi controlla il pallone lo allarga verso Carvacal che è solo davanti a Buffon Carvacal interviene Buffon con una grande parata e poi allontana De Rossi ma quello che ha fatto Isco è da enciclopedia del calcio Morata tocco verso segna il numero 22 l'Italia è sotto di due reti al quarantesimo del primo tempo è nato tutto da Darmian che ha perso di vista l'avversario finalmente c'è Belotti immobile l'appoggio per insigna la conclusione la respinta di De Gac andreva il pallone arriva a Belotti che viene fermato da una posizione di fuorigioco si è allargata la Spagna ha lasciato all'Italia la possibilità del contropiede